Ciao, sono Nicolò Fossati, tecnico RMS. Oggi vi parlerò della nostra gamma WAG, dei prodotti per la cura e la manutenzione della bicicletta. Tra i prodotti più apprezzati, i nostri sigillanti. La gamma si compone di tre prodotti differenti. Il sigillante ad alta viscosità non schiumoso, il sigillante schiumoso e l'ultimo arrivato, il sigillante a microgranuli, composto da tre differenti granuli internamente che per ostruzione vanno a chiudere i fori della copertura. È un prodotto eco-friendly, non contiene ammoniaca ed ha lunghissima durata. Altro prodotto molto apprezzato sono i nostri gonfieri para. Possiamo trovare la versione a tubetto classica nel formato da 75 ml e da 200 ml, mentre invece con la beccuccio Fast lo possiamo trovare nella versione da 75 ml e 100 ml. Tra le altre cose la gamma WAG si compone anche di altri prodotti, tra cui lubrificanti multiuso, lubrificante al PTFE e lubrificante al silicone. Abbiamo anche prodotti per la pulizia della bici come l'ucidante telai e l'ettergente bici. Per quanto riguarda invece il liquido freni, oltre al SuperDot 5 già presente nella nostra gamma, da quest'anno troviamo anche il liquido minerale, da utilizzare solamente negli impianti che appunto prediligono il liquido minerale rispetto al Dot 5. Per ulteriori informazioni riguardo alla gamma e alle specifiche del prodotti di cura e manutenzione WAG potete digitare www.wagbike.it. Potete utilizzare il nostro sito anche per trovare i WAGpoint più vicini a voi.